Tornati ragazzi con il secondo video di calciomercato che avete dovuto aspettare addirittura 10 giorni, perché 5? 10 giorni prima appunto dal primo, se non l'avete visto andatevi a rivedere il primo, vi avevo detto una settimana circa o più o meno e invece sono passati all'incirca 10 giorni, quindi bravo me, ma brava anche società perché alla fine le notizie erano scintellinate, quindi comunque dovevo aspettare un pochino prima di darvene qualcuna. E sono arrivate tutte insieme, ce n'è un miliardo ragazzi, quindi oggi dovrò andare abbastanza veloce perché me ne sono segnate tutte, mi c'è voluto una buona mezz'ora per segnarmene tutte perché erano veramente tantissime. E allora, due considerazioni, la prima è che se vedete che ho dei capelli di merda è perché sono stato in palestra, mi sono fatto la doccia e me li sono asciugati all'aria, quindi bravo me, e appunto vengano di merda. La seconda è, voi la maggior parte di queste notizie le dovete considerare con questo fattore, ovvero, io leggo la notizia e voi dovete pensare, bene, si prenderà se si vende chiesa, perché praticamente in questo momento è come se la società avesse messo sul piatto chiesa come pedina di scambio, nel senso che è come se non ci savesse sordi, ma questa cosa qui si può fare solo se si vende chiesa, quindi, scusate, mi stava risalendo tutto, considerate che io vi dico questa cosa e voi dovete pensare, bene, se si vende chiesa si prende, se non si vende chiesa col cazzo. Quindi, allora, velocemente, partiamo dalla difesa. Indiscrezione su Ceccherini, che sarebbe, insomma, il Verona sarebbe interessato appunto a prendere Ceccherini, magari con una formula, con un prestito, con un diritto di riscatto invece che comprarlo a titolo definitivo, perché comunque magari non ha appunto i soldi disponibili, o perché magari vuole vedere come il giocatore si può trovare appunto nell'ambiente di Verona, che molto probabilmente Ceccherini potrebbe giocare anche titolare a Verona, mentre nella Fiorentina appunto fa la riserva di lusso, perché comunque in questo momento, in questo momento addirittura in realtà fa il titolare anche nelle ultime due partite, perché comunque Pezzella non era disponibile. Poi, sono stati dei contatti da parte della Fiorentina per Andersen, spero si lega così, che è un difensore danese del Lione, il difensore danese del Lione ce n'è uno, che comunque è stato seguito strettamente negli ultimi giorni dal Torino, quindi la Fiorentina si è inserita come era per punto per Torreda, si è fatto il contrario, Torreda si era prima noi, poi si è inserito il Torino, ora invece c'è il Torino, siamo inseriti noi. Quindi si fa un po' in acazzotti, noi è il Torino per prendere qualche d'uno, e in questo momento comunque noi siamo molto interessati al giocatore, perché questo mi fa pensare che comunque ci sia una buona probabilità che appunto sia o uno tra Milenkovic o Pezzella partirà molto probabilmente, perché appunto si sta comunque facendo molto molto mercato anche in difesa, nonostante non ci se ne abbia effettivamente bisogno. Però appunto questo mi fa pensare che uno dei due potrebbe partire. Appunto, continuando alla difesa, siamo veramente molto vicini a Martinez IV, difensore centrale del River Plate, che io personalmente non conoscevo, quindi non ne conosco neanche le potenzialità. Se ne parla un gran che bene, ma veramente bene bene insomma, quindi alzo le mani e io non lo conosco, quindi appunto ragazzi fatemi sapere voi sotto nei momenti se qualcuno di voi lo conosce, io fate appunto sapere anche al resto del popolo viola, per chi non lo conosce appunto chi è costui. La Fiorentina avrebbe già messo sul piatto un'offerta di un prestito con diritto di riscatto fissata a 12 milioni, che River Plate avrebbe già accettato, quindi praticamente ci sono da fare le ultime firme, scartoffe e cazzi vari, perché il difensore potrebbe arrivare a Firenze nei prossimi giorni. Quindi comunque, molto probabilmente diciamo 99 su 100, Martinez IV sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. Poi, passando alle zone del centro campo, ovviamente ci sa ancora l'interesse per questo benedetto De Pollo. De Pollo, ragazzi, le due o tre anni che si vuole prendere, non c'è verso di prenderlo, perché l'Udinese fa sempre muro, perché ovviamente è il loro gioiellino, e lo valutano almeno 30 milioni, considerata sempre una cifra esagerata dalla Fiorentina, e sinceramente un po' io non li capisco. Però ovviamente, se parte Chiesa, magari con i soldi di Chiesa, si può ancora pensare a prendere De Pollo, perché comunque piace veramente tanto a Commisso, Barone e Pradè, e quindi sarebbero veramente contenti di averlo alla Fiorentina. Non so che ruolo potrebbe giocare, probabilmente la seconda punta, ma secondo me gli si potrebbe provare a fare anche l'esterno d'attacco. Non si sa, magari qualche cosa di strano. Poi, allora, questa ragazzi, questa ragazzi, io spero di sì, lo Spezia sarebbe interessato fortemente a Cristoforo, ma magari, ma magari, a Cristoforo, perché praticamente lo Spezia sta cercando di rinforzare il proprio centrocampo. Cristoforo per loro sarebbe un ottimo colpo, per lo Spezia sarebbe un ottimo colpo, perché, ora, non guardate che da noi non ha mai fatto niente, non ha mai fatto bene, o comunque non ha mai fatto vedere niente di che, ma Cristoforo, comunque, ragazzi, bisogna ricordarsi che giocava titolare nel Siviglia, fino a qualche anno fa. Hanno vinto tre Europa League di fila, con lui titolare a centrocampo, quindi, comunque, schifo, schifo, non deve fare, e, insomma, io non l'ho mai considerato un giocatore che, insomma, facesse troppo schifo, però, comunque, è un giocatore che alla Fiorentina, nei raggi della Fiorentina, non è mai rientrato, perché non è mai stato considerato capace di poter reggere la titolarità, o neanche la panchina, insomma, della Viola. Poi, ragazzi, da qui ci sono nomi molto importanti, e, appunto, fate caso che, se Chiesa viene, bene, si prova, se non viene, questa roba è come, praticamente, ho detto niente, praticamente, è come non dire nulla, però, allora, si parte, Juventus offre Rugani e Desciglio, più un piccolo conguaglio per Chiesa, la Fiorentina avrebbe fatto muro subito, e, però, avrebbe chiesto, ha detto, invece di Rugani e Desciglio, perché non tu ci provi a dare De Miral, perché mi garba di più anche a me, sinceramente, De Miral, non so a voi, ma a me, sinceramente, di Rugani e Desciglio, De Miral mi garba di morto, perché è più giovane, è più forte, mi sembra gioco di titolare, anche nella nazionale della Turchia, non vorrei di una stronzata, però, insomma, è un giocatore molto solido, molto giovane, ma comunque, allo stesso tempo, che ha dimostrato di essere veramente, veramente forte, e la Juventus ci sta, appunto, pensando. Poi, sono state offerti, ragazzi, addirittura, pensate, 50 milioni a questo giro, per Belotti, perché, se non ve lo ricordate, a gennaio erano state offerti circa 40 milioni, c'era stato il no della società, comunque, sempre di Cairo, che ormai, praticamente, Belotti, ovviamente, lei e il suo teresorino, se lo porta dietro, così, il contratto di Belotti se lo porta dietro anche quando va in bagno, praticamente, avrebbe riflettato anche 50 milioni, però, 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 questa bellissima, però, ho letto che c'è stata questa, appunto, comunicazione da parte del giocatore, che, non si sa quanto può essere vero o no questa notizia, prendetela con le pinze, e praticamente, tra virgolette, tra molte virgolette, lui sarebbe un pochino infastidito dal fatto che la società, già il club, non abbia tutta questa grande competitività, diciamo, quindi, praticamente, lui vorrebbe anche provare ad andare in dei lidi più competitivi, tra virgolette, perché il club Torino, lo sappiamo, non è più quello degli ultimi anni, soprattutto ultimamente, anzi, delle volte è riuscito a fare anche peggio di noi, quindi, il che è tutto dire, e quindi, praticamente, magari potrebbe cercare un confronto con la società per capire cosa fare, insomma, magari, ovviamente, Belotti, lo sappiamo, è legatissimo al Torino, però, magari, farla andare in dei nuovi lidi potrebbe fargli molto bene al giocatore, quindi, magari, insomma, nel senso a me farebbe altro che piacere di farlo diventare la punta titolare della Fiorentina. Ovviamente, ragazzi, se parte Chiesa, arriva a Glecon, perché l'è svincolato, c'è già il sit del giocatore, sarebbe contentissimo di venire a Firenze, gliel'hanno chiesto, tipo, un minuto dopo ha già detto sì sì, io vengo, perché comunque, non era riuscito a trovare, era svincolato appunto, tipo da un mesetto, un mesetto e mezzo dal Napoli, non era, scusate, non era riuscito a trovare una sistemazione definitiva, e quindi, praticamente, è arrivata la Fiorentina e lui subito avrebbe accettato. Ovviamente, se parte Chiesa, arriva subito a Glecon, perché comunque, Glecon non arriva se Chiesa non parte, perché se no, cosa va a fare? La riserva, Glecon viene a fare il titolare, se viene. Quindi, appunto, anche qui, c'è da vedere se Chiesa parte o no, quindi, per vedere questa cosa qui. Appunto, poi, rimane aperta la pista Pionte, che ovviamente è ancora Pionte, che non l'abbiamo lasciata andare, però l'unica cosa è che l'ERTA Berlino chiede una cifra per commisso troppo alta, perché comunque chiede circa 25-28 milioni per i giocatori, anche con, magari, un diritto di riscatto o un prestito, però il diritto di riscatto sempre a questa cifra qui o più o meno. Quindi, comunque, in questo caso, ci sarebbe stato il no della Fiorentina, ma si sarebbe, appunto, riaperta la porta, perché, appunto, se parte Chiesa, con i soldi di Chiesa, si vorrebbe provare a prendere Pionte. A me farebbe molto piacere, perché comunque farebbe il titolare e, sinceramente, comunque, quello che ha fatto vedere al Genoa e il primo anno al Milan mi fa, insomma, stare sereno sul fatto che non si va a prendere una pippa per forza. Ovviamente, se è perso l'ultimo anno del Milan, perché, comunque, magari, il Milan e io sono dell'idea che non è mai stato in grado di valorizzare la propria punta, se è visto, soprattutto, negli anni, a meno che quella punta non sia un mostro a me Ibrahimovic, per capirsi. Poi, rimane ancora aperto, la finestra pionta, con un altro polacco, ovvero Milik, ragazzi, perché Milik non è riuscito a trovare una sistemazione al Tottenham, perché il Tottenham avrebbe chiuso la porta dopo che il Napoli, insomma, non hanno trovato un accordo con il Napoli sulle cifre, sul contratto, insomma, e cazzi vari, e se no, Milik, insomma, appunto, adesso, se non riesce, appunto, a trovare un lido, il Napoli rischia di perdere a zero. Quindi, comunque, il giocatore avrebbe detto sì anche alla Fiorentina, ovviamente però la Fiorentina dice aspetta Ciccio, ovviamente noi non ti possiamo prendere fino a che non parte Chiesa, e ovviamente la stessa cosa, Fiorentina dice preferisce ancora Piontek, perché? Perché Milik ha due ginocchi spaccati, lo sappiamo, si è fatto tutti e due crociati, quindi sarebbe un pochino un'arma a doppio taglio, quindi bisogna stare attenti. diciamo che c'è il sit del giocatore, il sit della società Napoli, il forse della società Fiorentina, perché dice ragazzi aspettiamo Chiesa e poi guardiamo cosa ci dicono anche da Berlino, perché magari si figlia Piontek. Poi, ultima indiscrezione e poi vi lascio, alla Roma piace molto Vlaovic, però non per farlo giocare titolare, ovviamente, ma per fargli fare il vicegeco. La Fiorentina però chiede 25 milioni che per ora per la Roma sono troppi, perché considerato insomma il giocatore, la Fiorentina dice è molto giovane, ha tante potenzialità, ma la Roma risponde dicendo sì è giovane, tutto quello che cazzo vuoi sarà fortissimo, ma per ora non ha dimostrato quello che vale, appunto nel senso quei soldi per loro ancora non li vale, giustamente, perché sinceramente in questo momento se uno arrivasse alle mie porte può dire sì è giovane, può essere forte quanto cazzo vuoi, ma 25 milioni non li vale. Purt'acaso la Roma accettasse, se trovassero un accordo appunto questo potrebbe aprire appunto la pista Milik, magari che ne so non parte Chiesa ma parte Vlaovic, comunque si apre questo è un calciomercato ancora apertissimo, apertissimo e bisognerà vedere soprattutto in questi ultimi 3-4 giorni, non mi ricordo quanto è dura, cosa succederà, però secondo me negli ultimi giorni vi farò di sicuro un altro video perché di sicuro succederà qualcosa, mi sembra strano e con tutte queste cazzo in indiscrezione non succeda qualche cosa appunto per rifare mezza squadra. Quindi niente ragazzi, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se chi vorreste vedere appunto di questi giocatori alla Fiorentina, se secondo voi Chiesa Parto non parte, perché ormai ragazzi sono anni che deve partire o non partire e ancora non ha rinnovato quindi molto probabilmente partirà ma ancora non lo sappiamo. Quindi niente ragazzi, appunto, fatemi sapere sotto nei commenti se vi è piaciuto questo video, lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto, ricordatevi di iscrivermi al mio canale e di andare a vedere il video del calciomercato prima se vi siete persi qualche notizia su qualche giocatore e quindi niente ragazzi, ciao!